Paesaggi dal mare, è stato questo il tema al centro dell'incontro promosso oggi a Cagliari dal Ministero della Cultura in occasione della giornata nazionale del paesaggio che si celebra il 14 marzo, un evento che ha visto la partecipazione delle istituzioni che hanno la responsabilità e l'onere di salvaguardare e conservare il paesaggio marittimo nazionale e della Sardegna con un focus particolare sulla città di Cagliari, dal Ministero della Cultura alla Regione, dalla Marina Militare all'Autorità di Sistema Portuale della Sardegna. Queste le parole dell'assessore all'urbanistica Aldo Salaris. Una giornata importantissima questa della giornata nazionale del paesaggio dà un titolo veramente stimolante, Paesaggi dal mare. Per noi isolani che siamo abituati a guardare il mare, avere un sollecito, avere un impulso di vedere, analizzare e studiare il nostro paesaggio dal mare è uno strumento che ci porta ad avere maggiore equilibrio, soprattutto ad immergerci in quello che è il nostro paesaggio, bene naturale da tutelare, ma soprattutto un metodo che ci consente di osservare come dal punto di vista antropico, culturale, il paesaggio si è evoluto, l'utilizzo del paesaggio, del suolo si è evoluto ad oggi, soprattutto negli ultimi decenni, quello che è stata l'evoluzione, oltre che dal punto di vista demografico, l'evoluzione dal punto di vista turistico dei paesaggi che possiamo vedere dal mare. Siamo impegnati, soprattutto in queste ultime settimane, a definire quelle che sono le linee di utilizzo dei paesaggi, ripeto, preservare il paesaggio dal punto di vista naturale, ma soprattutto consentirne un arricchimento armonico da parte dell'uomo.